Ehi tu, se ti iscrivi al canale sei un armadillo, iscriviti al canale se no ti porto un armadillo carnivoro a casa che ti morde il dito. Se lasci like ai miei video armadillosi sei un caimano, lascia like se no scateno il mio caimano personale su di te. Se mi segui sui social colorati discutibili sei un drago di comodo. Ciao a tutti armadillo armadillosi e bentornati in questo nuovo video armadillosi swag. Finalmente posso fare questo video, sto aspettando di fare questo video da un sacco di tempo. In questo video vi farò vedere tutti i filmati che ho fatto in questo periodo, di quando ho finito gli esami, di quando ho spedito il mio elaborato degli esami, di quando li ho finiti. Descrivere quello che ho provato è indescrivibile, non si può descrivere. O se sono andato a descrivere quello che ho provato e le mie emozioni in una parola. Euforia. Basta, tutto questo. E niente, godetevi i filmati. Comunque prima di farvi vedere i filmati volevo anche dirvi che adesso che non ho niente da fare se non vedere gli amici e registrare i video, mi annoio molto. Anche perché non ho compiti da fare, non ho niente. Quindi se non mi intrattengo vedendo gli amici oppure registrando video, è un problema. Speriamo di trovarci con cosa da fare. Per il Madillosi ho finito tutto il PowerPoint, tutto l'elaborato. Non ci posso creare neanche io che sono riuscito a finire tutto. Tra poco è anche finito tutto, finita la Squall, finito tutto, quindi sono euforico. Adesso vi faccio vedere il momento in cui lo andrò a trasferire nel registro elettronico. Godetevi il momento. Per il Madillosi questo è l'elaborato che ho fatto. Tutto l'elaborato. Qui c'è un piccolo errore con dei spazi che non servono. Così sistemiamo qui. Così, perfetto. Adesso va molto meglio. Questo è tutto il mio elaborato. Ho scelto come tematica principale, ho scelto Cuore Italiano perché io sono un nazionalista. Queste sono tutte le pagine di elaborato che ho fatto. Non avete idea di quanto tempo ci ho impiegato. Se vi starete vi chiedendo quanto tempo ci ho impiegato, beh, ci ho impiegato troppo tempo. In totale sono, in totale sono 12 pagine di... 12 pa... 12... Sta barra io giuro che la distruggo. Armadio Madillosi sto per mettere l'elaborato nel registro. Ancora non ci sto credendo, questo momento finalmente è arrivato dopo tanto tempo. Non posso non registrarlo, ovviamente me lo riguarderà anche quando avrò 40 anni. E niente, godetevi il momento. Maglio Madillosi, adesso qui abbiamo la cartella per l'esame. Andiamo, no, non voglio cliccare Spotify. Prendiamo il nostro elaborato e lo trasciniamo qua dentro. Il nostro elaborato e lo trasciniamo qua dentro. 6 e 3 nel 10 giugno abbiamo cominciato il mio ultimo giorno a leggere. Ma buongiornissimo! Comunque sicuramente vi starete vi chiedendo cosa ho fatto nell'ultimo giorno di scuola. Beh, ve lo dico in poche parole. Niente! Non ho fatto niente, abbiamo visto tutte e sei ore un film, poi dopo siamo andati in pizzeria e infine abbiamo fatto un giro in centro al parco e dappertutto. Siamo andati anche al paese degli armadilli e basta. Questa è stata la nostra giornata. Mi sono divertito molto se fosse per il fatto che le ultime ore avevo calcio. Cioè, non è che odio il calcio. A parte che avevo calcetto. Avevo calcetto le ultime ore. E sono stata che mi dispiacevo un po' andarmene perché mi stavo divertendo. Però comunque le ultime ore della giornata ho fatto calcetto e mi sono divertito anche lì. Quindi è stata una delle giornate più belle della mia vita. E basta. E niente armadillo armadilosi. Spero che questo video molto coliardico, molto armadilloso, vi sia piaciuto. Cioè, non lo spero. Vi deve piacere per forza. Ci ho messo un sacco di tempo a montarlo. Se non mettete like, ve lo faccio prendere dal mio armadillo in pigiama. Lasciate like, iscrivetevi. Mi raccomando, iscrivetevi. Se no, vi porto la mia professoressa di matematica sotto casa che vi misura quanto avete lungo lo zerbino. Stavo dicendo, iscrivetevi per venire a far parte della Swag Squad e diventare un armadillo o un pavoneggiarsi. Se vi starete chiedendo perché chiamo i miei siti preferiti pavoneggiarsi, perché Swagger in inglese vuol dire pavoneggiarsi. Se volete mi trovate anche sul social, la racione Instagram e il social Blue Discord, che sono entrambi i social colorati discutibili. E noi ci vediamo al prossimo video. Si spera, armadilloso. Ciao! Questo dovrebbe essere il saluto dell'armadillo. Se non l'avete notato, mi sono dimenticato di dirle la parte dove appunto dico E niente armadillo, ma di rosi il video dove finisce qui. Mi sono dimenticato di dire quella parte. Devo dire che mi sono dimenticato di dirla perché è simbolica per il mio canale. Va bene, me ne vado. Però, vi iscrivetevi. Ah! Ehi tu, guarda sti video, altrimenti ti porto a casa tua il mio esercito di draghi di comodo.